Nello specifico io oggi ho un doppio cappello, quindi sono qui per Coca-Cola ma sono qui anche in vesti di Ferpi, sono una dei consiglieri nazionali e trovo che questo sia un appuntamento importantissimo per la nostra federazione e per tutti quelli che come me fanno questo lavoro perché è importante dedicarci dei momenti di condivisione, di confronto come questo ma anche farlo aprendo le porte all'esterno quindi non approfittando della nostra assemblea che appunto ci vede uniti tutti gli anni per confrontarci ma anche proprio per aprirci all'esterno per raccontare anche chi siamo e che cosa facciamo come rappresentanti del mondo della comunicazione. Fiducia è una parola che non è proprietaria di Coca-Cola ma della quale sicuramente noi cerchiamo di fare il miglior uso possibile. Le esperienze che voglio raccontare oggi, condividere oggi con chi è qui sono sostanzialmente incentrate intorno a questa parola perché la capacità per un'azienda privata come nel caso di quella per cui lavoro io di poter collaborare e lavorare a servizio del paese nel quale operiamo il tutto ruota intorno alla fiducia che si può creare con le istituzioni e ancora prima con il pubblico con il quale noi ci relazioniamo a priori anche solo per ragioni di business ma verso il quale abbiamo una responsabilità molto più ampia della sola parte di business e commerciale. Proprio per questo è veramente rilevante che si crei un rapporto di fiducia con l'utente che è dall'altra parte che può essere in veste di consumatore ma è in primis in veste di cittadino e quindi le aziende insieme alle istituzioni, insieme alla comunità tutta devono avere questo senso di responsabilità per poter collaborare a beneficio degli italiani in questo caso ma della comunità che ci ospita.